... Martedì 8 gennaio, buongiorno, bentrovati con la nostra rassegna stampa subito. I quotidiani locali, partiamo come sempre da primo piano Molise, l'apertura è dedicata alla politica, al primo vertice dopo la crisi, ieri sera il governatore ha incontrato gli assessori, ribadita la richiesta di coesione e lealtà, scoppia il caso sottosegretario Pallante e deve lasciare la presidenza della quarta commissione. Iorio fuori dal coro, la maggioranza è compatta, i problemi sono in giunta, non partecipo a questo teatrino, lo sfogo dell'ex governatore sui social, su Facebook. In taglio alto, auto importate dall'estero e vasa IVA per 4,5 milioni, guai pure per gli acquirenti. L'indagine è della polizia, la procura indaga su 48 persone, il punto di spalla di Umberto Berardo nodi al pettine e poi maltempo, ghiaccio sulla carreggiata, donna rischia di partorire in macchina, in arrivo una nuova ondata di gelo. A Termoli più servizi sanitari sul territorio, la Cattolica apre un centro in città. Ieri nel primo pomeriggio il taglio del nastro, sempre a Termoli, camionista trovato morto nella cabina del tir, si ipotizza l'intossicazione. Lotteria Italia, premi da 25 mila euro a Boiano e Riccia, ecco tutti i tagliandi vincenti. E poi c'è lo sport, con il centrocampista Maresca che ha firmato per Lisernia, mercato ancora aperto, si cercano due pedine. E poi Tego, Lagnone, il Civitelle non riapre, Colcesena al Lancellotta o all'Aragona di Vasto. Sabato è il match, il Campobasso anticipa il ritiro in Abruzzo, Lupi già a Francavilla. Il quotidiano del Molise, l'apertura auto usate, comprate all'estero senza pagare l'IVA, 48 indagati, salonisti, multibrand devono rispondere di falso, ideologico e associazioni a delinquere finalizzata alla frode fiscale. Evasione da 5 milioni di euro, anche gli acquirenti rischiano grosso. Ancora la cronaca camionista muore nel tir, intossicato dal monossido prodotto da una stufetta. Tentaio alto, cultura, boom di visitatori per la mostra di Amedeo Trivisonno, il segno e il colore. Lotteria Italia, Arriccia e Boiano, due premi di consolazione da 25 mila euro. E poi giunta la notte dei lunghi coltelli, dubbi, pallante, romagnuolo, Iorio, implosione dell'esecutivo, non partecipo a questo teatrino, i Cinque Stelle, Molise in crisi e Toma pensa alla distribuzione di poltrone. Dentro la notizia è inaugurato il nuovo centro medico della Cattolica a Termoli. Ieri pomeriggio a San Giacomo si torna in classe in una scuola antisismica a Boiano. Amadori annuncia l'avvio delle attività all'incubatoio. Poi c'è il congresso del Partito Democratico. Oggi, questa sera, alle 21.30, Zingaretti sbarca Isernia, con lui oltre 80 amministratori locali. E poi CGL, la fratta, porre rimedio al pasticcio causato sul dimensionamento scolastico. Infine, lo sport, i Lupi si allenano a Francavilla. Il match con i locali si giocherà sabato alle ore 14.00. Isernia, colpo a centrocampo, preso il classe 96 Maresca con la San Giustese in anticipo. Calcio ADP femminile, Ripalimosani e Gonfievele. E poi la Magnolia vuole il riscatto immediato dopo il primo stop stagionale. Ora i quotidiani nazionali. Iniziamo da Il Giornale. Arruolano i violenti, schedano gli scienziati. Delirio al governo. Questa è l'apertura scelta dal quotidiano diretto da Alessandro Sallusti. Di Maio sposa i gile gialli francesi e la Grillo fa le liste di proscrizione. Migranti, Salvini contro Conte, accoglierli è una resa. E poi gli antibanche sovranisti salvarono la banca Carigie. Arriva il decreto stampelle. Ieri sera il Consiglio dei Ministri straordinario garantirà lo Stato con delle obbligazioni. E poi, primi tre premi tra Salerno e Napoli. La lotteria di cittadinanza. Il feudo di Luigino fa bingo fortuna. L'edicola del secondo biglietto vincente. E poi il Corriere della Sera. Ora il governo salva Carigie, gile gialli, lite Italia-Francia. Di Maio li elogia. La replica fate pulizia da voi. Lo Stato garantirà i nuovi bond dell'Istituto Genovese. Sullo sfondo, l'ipotesi nazionalizzazione. Poi c'è la vignetta di Giannelli. Con un signore che chiede sia Di Maio che Salvini apprezzano i gilet gialli. Gli risponde un altro signore. Di Maio un gilet giallo contro la Lega. E Salvini un gilet giallo contro i 5 Stelle. Poi c'è questa fotonotizia, la scoperta dopo 20 anni. Una notizia che giunge dal Regno Unito. Non sono il padre dei miei figli. È la storia di Richard Mason, di sua moglie Kate e dei loro tre ragazzi. Lui è un uomo d'affari milionario. Qui viene diagnosticata una malattia che scopre lo ha reso sterile dalla nascita. E i tre figli, uno di 23 anni e due gemelli che ne hanno 19 avuti. Frutto di una relazione della moglie con un altro uomo. E poi a Milano i soldi per l'eroina e l'emosinati in piazza Duomo. Il pezzo è di Gianni Santucci. La Repubblica di Maio patto con i gilet gialli. Questa l'apertura IRA di Parigi. Fate pulizia da voi. Salvini sì alla protesta, no ai violenti, migranti fermi in mare. Resta la tensione tra Conte e la Lega. Il punto dilettantismo mai visto di Stefano Folli. Il governo a Roma, in piazza a Parigi. La divinità confonde le menti di chi vuol perdere, dicevano gli antichi e forse avevano ragione. Lo dimostra la bizzarra uscita di Di Maio, vicepresidente del Consiglio in Carica, a sostegno dei gilet gialli francesi. Fino a offrir loro come strumento organizzativo la mitica piattaforma russo a sugello di una imprevedibile amicizia. Questo è l'incipit del pezzo di Stefano Folli con il titolo dilettantismo mai visto. E poi la banca in crisi, carige e tutela di Stato sui risparmiatori. Possibile anche la nazionalizzazione. In taglio centrale c'è il ritorno di cheming spesi. Non sono colpevole. È comparso in tribunale per rispondere alle accuse di molestie sessuali. Udienza per le molestie su un ragazzo. Ed ora il messaggero, il quotidiano romano, carige e salvataggio di Stato. Questo è il titolo di apertura. Il Consiglio dei Ministri riunito d'urgenza ha varato un decreto che contempla la ricapitalizzazione dell'istituto. Dopo i stress test BCE, la situazione patrimoniale è precipitata. Garanzia pubblica sulla liquidità. E poi in arrivo il reddito sul sussidio e pensioni. Gli otto requisiti per averlo. Statale quota 100 interessi per il TFR. C'è la vicenda dei gile gialli. Elite con la Francia. Per l'elogio di Di Maio e Salvini. Il leader del Movimento 5 Stelle. Vi offriamo la piattaforma Russo Parigi. Fate pulizia da voi. Poi c'è Spesey. La condanna preventiva che fa male al cinema e ai USA. Rischia 5 anni di carcere per presunte molestie. E ancora il ricatto di Malta blocca i migranti. La Unione Europea. Li prendiamo. No del Viminale. Sicurezza. 5 regioni ricorrono alla consulta contro il DL Sicurezza. E poi il sole 24 ore. Il quotidiano politico, economico e finanziario dei Assindustria. Cartelle con reddito fino a 40 mila euro. Sconto sul condono. Fisco scatta l'operazione pace fiscale per i contribuenti in maggiore difficoltà. Nelle prime simulazioni sul saldo e stralzo. Gli effetti dell'Isee. Dunque questa l'apertura scelta dal sole 24 ore. Che si occupa in taglio centrale anche del reddito di cittadinanza. Chi ha figli non dovrà spostarsi per lavorare. Questa è la notizia data da il sole 24 ore. Chiudiamo con la gazzetta dello sport. Con la nuova era della Ferrari. Con Binotto che avrà pieni poteri. Leclerc adesso è più libero. Ufficializzata la rivoluzione russa con il cambiamento al vertice. Questo per l'automobilismo. Mentre in taglio centrale si parla dell'Inter. Che accaccia dell'oro. Il sogno nero-azzurro. Oro in questo caso rappresentato da Modric. Che è l'ultimo vincitore del pallone d'oro. Riaperta la via per il Croato. Il club è pronto a cavalcare il suo mal di pancio a Real. E c'è l'assalto anche a De Paul dell'Udinese. E poi Pacchettà corre. Allegria Milan. Ora ti aiuto. Io parla l'ultimo acquisto dei nero-azzurri. Ed ancora in taglio basso. Salvini no a stop per i cori razzisti. Sì alle trasferte. Il ministro ci sono 6.000 teppisti. Li sradicheremo. Miccichè. Pene severe. Il vertice si è tenuto a Roma. Bene. È tutto. Prima dei saluti diamo uno sguardo al palinzesto di oggi. Cosa troverete? Sulla nostra rete alle 11 c'è fuoco incrociato con uno speciale realizzato dalla collega Rita Iacobucci. Alle 14 l'informazione. In diretta con Cristina Niro. Alle 14.30 salute 4.0. La nostra rubrica realizzata in collaborazione con la fondazione Giovanni Paolo II di Campobasso. Alle 16 fuoco incrociato. Alle 17.30 paese mio che si occupa di Montaquila. La prima di tre puntate. Alle 19.30 ancora l'informazione questa volta con Valentina Ciarlanti. Alle 20 salute 4.0. Alle 21 vox Populi 2 con Michele D'Alessio. Alle 23 l'ultima edizione del nostro notiziario. Bene. È davvero tutto. Grazie per averci scelto. Buona mattinata. Arrivederci. Grazie per aver guardato il nostro notizio. 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 Grazie a tutti.